Film romantici, avvia anziani di categoria CD, sulla distanza del miglio sono in 9, 8 in prima fila, 1 in seconda, mezzo meccanico che prende velocità. Chiusura delle ali, emerge Donna Ventura Ors con ai lati il compagno di colori Cif Orlando, poi Benjamin che precede Bizia di Casei, terza ruota per Dolomite WF che aggira Belgiacomino Parca e poi staziona a centro gruppo, 200 volati in 13 e 3, Cif Orlando si adegua in seconda posizione perché Donna Ventura Ors tira via a grande andatura, mezzo giro iniziale volato in 35, 4 sul piede dell'1, 10 e 8. Deve costruire all'esterno Dolomite WF che adesso stazione ai lati di Benjamin in terza posizione, 642,5 continua la fuga in avanti di Donna Ventura Ors, si avvicina gradualmente Dolomite WF, 57, 4 di 800, retta di fronte, Donna Ventura in fuga, Dolomite cerca di aggirare Cif Orlando, mette la figura davanti all'avversario, Benjamin non riesce a liberarsi della posizione alla corda, interviene in terza ruota Belgiacomino Parca dopo il chilometro in 1, 11 e mezzo, tre quarti di miglio in 1, 25 e 7, ancora un 14 sec di frazione, sembra proponderante in terza ruota Belgiacomino Parca, dalle retrovie si fanno notare anche Bonetto Star e Benjamin, retta d'arrivo con Belgiacomino che sta passando a centro pista, la rottura di Bonetto Star in cerca di Marco Benjamin, Belgiacomino attacca Dolomite WF, fa ancora una cosa straordinaria, diversa dal solito, non finisce mai di stupire questo Belgiacomino Parca, a fronte di un contesto particolarmente impegnativo, al mezzo giro finale già in terza ruota, in retta d'arrivo prende la meglio su una comunque Dolomite WF che meglio non poteva correre, vista anche la media conclusiva di 1, 11 e 7, che premia uno straordinario Belgiacomino Parca, il figlio di Oropuro Barre e Grandera Parca, è allenato da Giorgio D'Alessandro Senior per i colori della futura Orsis, e in salti c'era Vincenzo Gallo, ottimo secondo posto per Dolomite WF, per il terzo dovrebbe essere il 2 Benjamin, il terzo a superare il traguardo e Bonetto Star, ma io sembravo, pare di averlo visto di galoppo ad un certo punto, per cui per le piazze attendiamo le decisioni della giuria, a vincere Belgiacomino Parca su Dolomite WF, vedete il terzo a superare il traguardo e Bonetto Star, il quarto Benjamin, media di 1, 11 e 7 per Belgiacomino Parca.